Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e la variante di Valico per traffico intenso. Sulla FIPI-LI fare poi attenzione per personale su strada tra Pisa Nord-Est e Navacchio in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Poggi Bonzi e Sandonato in direzione Firenze. Chiuso lo svincolo di Poggi Bonzi Nord. Sulla statale 1 Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra Rio Torto e Venturina in entrambe le direzioni. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra Pisa e Dogana Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!